Allora, se qui lasciamo il mat-toolbar, io eliminerei questo SaveNavContainer, andiamo a vedere, mat-icon-button, mi sa il mat-icon-button, non l'avevamo portato, e infatti non c'è, non c'è, quindi lo dobbiamo andare a importare, per questo non si vedeva tanto bene. Ok, andiamo a importarlo, mat-icon-button, andiamo a salvare, e voilà. Dopodiché cambiamo un attimino questo menu che non mi piace, quindi andiamo a risistemarlo e cosa facciamo? Qui, questo, intanto cambiamo il nome e mettiamo TwitchChat, quindi qui mettiamo TwitchChat, perfetto, così è allineato anche con il titolo che abbiamo qui, no? Adesso andiamo a sistemare un pochino proprio il layout. Qui avevamo un mat-icon-button, con l'expanded, e facciamo così, mat-menu. Allora, cosa vogliamo fare? Se andiamo su material.rangular.io, tra i vari componenti, abbiamo, eccolo qui, e il menu, eccolo qui. Ci dicono di fare questa cosa qui. Allora, la copiamo, poi vediamo un attimino come dovrebbe funzionare. Ci riportiamo questi due, li mettiamo tranquillamente qua sotto, e ovviamente dobbiamo importare il mat-menu e il mat-menu trigger, perfetto. Quindi, mat, andiamo a vedere qui, eccolo qua. Andiamo a importarci tutto il modulo. A questo punto, ecco, e abbiamo importato. Se adesso andiamo a cliccare, eccolo qui, abbiamo l'item 1 e l'item 2, che sarebbe questo menu. A questo punto, questo click, possiamo toglierlo. Non interferiamo con quanto qua sotto, e qui facciamo un attimino un refactor. Andiamo a togliere via il nav container, lo facciamo usando le classi di bootstrap, quindi, di bootstrap, scusate, di tilewind. Quindi, facciamo così, intanto lo commento. Intanto lo commento, ovviamente questo, ecco qui. E cosa facciamo? Allora, facciamo un bel div. Ci usiamo la classe grid, grid- e qui grid-calls- Qui, con le prentesi quadre, con il tilewind, possiamo definire, possiamo creare un grid-call customizzato, che altrimenti dividerebbe, ad esempio, grid-call 2 in due parti separate, quindi dividere lo schermo a metà. Invece noi vogliamo dargli una customizzazione. Quindi possiamo dirgli un 20% rispetto al viewport width e 1fr, che significa prendere tutto lo spazio. E gli diamo anche un hfull, in maniera tale che si prenda tutto ok. Ok, ovviamente non vediamo niente, però, qui possiamo intanto creare un div, e qui ci mettiamo il nostro app. L'avevo qua sotto, no? Eccolo qua. Lo andiamo a portare qua dentro. Quindi, il primo pezzo, ecco, qui la lista degli utenti. Poi, il secondo pezzo, invece, ci mettiamo il nostro router outlet, che qui non vedo. Ah, eccolo qua. Ci portiamo il nostro router outlet. E quindi vedremo... Oh, ecco qua. Magari ci possiamo mettere, magari, un bordino. Class, border, border R. Quindi mettiamo un bordo soltanto alla destra. E mettiamo un grigetto, così, 200. Mettiamoci anche un po' di... Di ombreggiatura. E l'ombreggiatura la mettiamo... Di colore grigio, magari un po' più scuro. Vediamo un po'. Inizia già a prendere un po' di forma. A questo punto qui, qua, facciamo un flex. Flex call. Mettiamo gli elementi al center. E allineiamo il tutto a sinistra. Ok. Che ne dite? Non è già un po' meglio? Ovviamente questa home page non è proprio bella. Allora, qui dobbiamo customizzare un attimino il side nav. Perché così non si riesce a comprendere molto bene. E magari... Che property avevamo messo? Lo username. Vediamo, eh. Vediamo. Se metto in data binding. U. .username. Vediamo un po'. In effetti salta fuori lo username. Però così... E va fuori. Allora, proviamo a metterci un text. Ellipsis. Vediamo. Ancora no. Ehm... Full. Vediamo. Non gli piace. E overflow hidden. Ok. Quindi qui mettiamo text ellipsis. E overflow hidden. Andiamo a vedere. Si vede che questo... Facciamo bg red. Vediamo dove finisce. No, finisce lì. Perché mi fa questo scherzo. Overflow hidden. Ok. Ha nascosto. Però vedete che... Non si vede... Ancora granché bene. Vediamo un po'. Se io faccio un flex... Flex call... Del punti host... Chiocciolo. Apply. Flex. Flex call. Vediamo un attimo se sborda. No, non sborda. Però non gli piace. Flex. Flex call. Vediamo, eh. Questa la dobbiamo risolvere. Questo va... Proprio... Va proprio fuori. Se io qui ci metto... Width 100%. Che succede? Ah. Quindi devo mettergli... Ok. Upp. Meno pull. Vediamo. Il risultato era quello che volevamo. Possiamo toglier via più questo rosso. Ci mettiamo anche un bordo. Meno b. Vediamo. Ok. E magari ci mettiamo anche un marching button dei tre. Togliamo via border. E ci mettiamo anche un padding, va? Un padding button di due. Ok. Quindi questi sono gli utenti attivi. Quindi magari ci scriviamo anche un h1 users online. Vediamo. Ah, giusto. L'ho messo nel ciclo for. Quindi viene replicato. Mettiamolo fuori dal ciclo for. Troppo grosso, però. Quindi class. Text. MD. Vediamo. Font. Bold. Ovviamente qui abbiamo messo il display name, lo user name e quando è online. Quindi qui possiamo scrivere last view. Vediamo. Magari se scrivo anche giusto. Last view. Last view. Last view. Last view. Vediamo così. Non è proprio lo spettacolo. Vediamo, vediamo. Vediamo. Se lo metto così. Quindi. Mettiamo uno span. Perchè non mi prende niente. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. e per finire questo lo mettiamo qua. Mi si è tolto via lo small. Ok. Benissimo. Allora. Sistemiamo un attimo l'identazione. questo più dello small. Questo il live. Direi. Facciamo anche un effetto over. Mettiamoci un bisli. BG. Gray. Cento. Vediamo. infine ci mettiamo un padding 1 tanto per staccare no forse padding 2 vediamo riduciamo un attimino qui text md text sm xxs ora iniziamo a fare questa questa chat quindi andiamo sulla home ormai abbiamo capito che ci siamo loggati quindi possiamo cancellare tutto quanto facciamo i vari componenti allora il primo componente che andiamo a fare è l'inserimento dei messaggi ok quindi qui creiamo un components tanto l'inserimento dei messaggi prevedo di farla soltanto qui dentro non penso di metterla da qualche altra parte ora andiamo qui espandiamo tutto schermo allora qui siamo dentro services andiamo dentro pages home components ok ngdc insert message e ci mettiamo un bel skip test skip test e adesso l'ha creato ma in questo punto lo andiamo ad aggiungere qui poi ripuliamo anche il ts quindi qui facciamo così se no vabbè vediamo vediamo qui lo andiamo ad aggiungere ok e qui facciamo un app insert message vediamo un po' insert message work perfetto ora questo qui lo metteremo sotto no quindi facciamo così class e absolute no facciamo un relative bottom 0 left 0 full ovviamente non vunge perché dobbiamo il nostro on components dirgli che è un block non solo un block ma dobbiamo dirgli di prendere tutto lo schermo ovviamente questo non lo prende vediamo mettiamo un rosso per capire no lo prende tutto in realtà lo prende tutto ma vediamo vediamo meno full ho preso tutto lo schermo in larghezza questo spazio non lo capisco andiamo a vedere l'app l'app component ora questo ha il grid call facciamo così questo ha il grid row grid row 1 non capisco perché ci sia questo spazio sopra vediamo un attimo allora ah perché c'è un padding c'è un padding vediamo no c'è un margine un margine a dove viene applicato questo margine da un component ok quindi è qui eh sì è vero c'è scritto prima ok abbiamo tolto via il margine perfetto ora vediamo un attimo si io gli dico che è un flex 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 raw la toolbar e main container questo non serve più andiamo a questo anche non serve più tutta questa roba qui non serve più vabbè una cosa alla volta andiamo a rimettere lo stile come era prima quindi h-full poi andremo a vedere di sistemare questo problema intanto questo vorrei capire perché non lo mette nel bottom se io lo metto relative bottom 0 left 0 the full vediamo un attimo perché non gli piace se io dico che è un block non gli può interessare di meno inline block non gli può interessare mi sa che vediamo 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 position relative se gli dico che è un position absolute ovviamente lo mette qui io invece volevo fosse relative perché perché sulla base del componente padre volevo che non è che c'è un colore background color chocolate aspetta aspetta insert message component andiamo qua andiamo su scss caccio l'apply bg facciamo fucsia così lo vediamo lo vediamo bene ok ha preso il tutto ma non l'ha preso come me lo immaginavo io dico che è un flex call ok quindi col flex call prende il giusto spazio ma non va giù se io dico position absolute basta sotto invece a me non piace io voglio che sia un relative e mi sa che il problema no non è questo ma in realtà noi vogliamo riempire il primo pezzo e il secondo ok ok aspettate in realtà qui facciamo grid grid cross 1 in realtà sarà 1 fr e poi lo facciamo di 100 pixel a questo punto rimarrà lì esatto riempie tutto ma visto che qui metteremo prima i messaggi i messaggi ok a questo punto l'insert message arriva qua sotto ottimo abbiamo ottenuto il primo pezzo che volevamo realizzare ok togliamo questo rosso e togliamo questo fucsia abbiamo l'insert message ora qui cosa faremo metteremo un input e un bottone niente di più niente di meno quindi possiamo prevedere di fare un flex flex row item center justify start ok quindi andiamo a mettere intanto poi lo convertiremo un input text e un button invia ovviamente c'è questa cosa che che non riesco a capire chi la mette non so se è side nav che potrebbe essere side nav fatemi vedere così lo sistemiamo anche questo vediamo flex call relative magari se scrivo giusto no chi è che gli dice deve essere nell'app component vediamo gli dico h full è questo qui è l'h full che gli dà un cento per cento quindi punti host c'è l'apply ok 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 in realtà non era proprio questo che volevo vediamo h meno full allora se metto l'h full come avete visto va giù se io gli metto un inline block continuo a non prenderlo vediamo un attimo allora abbiamo il mat tool bar e poi abbiamo la griglia però guardate che strano se io dico h full ok ha preso tutta la larghezza quello che non riesco a fare è dirgli di prendere tutta l'altezza flex flex no flex call ok quindi siccome siamo item start ok justify stretch no qui siamo sull'app component stiamo qui dentro fatemi capire un attimo come siamo messi questo possiamo anche estringerlo ok magari tg red 400 vediamo vedete non prende non prende eh si bene non prende lo spazio non prende lo spazio allora pc uxia vediamo un attimo non prende non prende il tutto h menu full ok quindi adesso ha preso tutta l'altezza non mi torna ok quindi l'app container che ha posto ora dobbiamo andare andare a vedere qui allora questo è così questo è il course ah forse è per questo v-full vediamo voilà ottimo quindi possiamo togliere via il background rosso qui c'è il message quindi andiamo a sistemare se aggiungiamo un po' di padding questo lo andiamo ad aggiungere qui e ovviamente lo andiamo ad aggiungere nel nostro home ci mettiamo un padding di 5 ok no forse un padding x di 5 dai vediamo anche un padding top di 5 andiamo a spaziarlo vabbè forse dopo useremo un padding 5 su tutto quanto il layout va bene allora qui abbiamo il nostro textbox quindi andiamo nell'insert message andiamo a usare che cosa usiamo e siccome è soltanto un campo di testo al momento facciamo un form control quindi form input message uguale a new form control form control e qui mettiamo di una stringa ok ora vediamo così ok il nostro insert message andiamo a vedere un attimo fin dove arriva vediamo ok prende il tutto e i componenti non arrivano fino a lì perché però cambiamo un attimo non facciamolo col flex usiamo grid grid cols di 1 fr 1 fr auto vediamo ok per prende tutto lo spazio per il bottone in realtà non mi ricordo se lo prende facciamo così ok benissimo e mettiamo un gap di 5 così spaziamo gli elementi troppo 5 no va benissimo ok ora qui usiamo il material component quindi andiamo qua l'input e prendiamo il nostro matform field ok quindi lo mettiamo qua ovviamente adesso mi da l'errore che dobbiamo andare a importare allora questo è un text area ma io voglio un input andiamo a restringerlo andiamo un input e andiamo a importare ovviamente visual studio code non lo importa però lo andiamo a importare a mano ciò c'è l'angular material input si è chiuso chrome vabbè mat input module e lo andiamo a importare ok ora lo andiamo ad applicare mi sa che mi sono dimenticato qualcos'altro ah perché c'è il text area qui quindi chiudiamo l'input anzi ok questo lo togliamo insert your message ok sample fluid qui facciamo v-full poi se non sbaglio l'appearance abbiamo detto outline no fill e poi il float label auto no always ok perfetto leave a comment insert a message insert a message ok ora vediamo un attimo item center ok vabbè diciamo allora la pressione di questo tasto ovviamente dobbiamo fare in modo che ci sia qualcosa ora io qui metterei un validator spunto required in maniera tale che qui ci sia il required mattint 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 ok quindi qui quindi qui tas text red 800 ok ovviamente adesso con questo rosso di sfondo non si vede granché lo andiamo a togliere ok sample error è qui allora questo andiamo a visualizzarlo soltanto se formint well as as error required ok quindi se c'ha l'errore lo facciamo vedere and sì perché ce l'ha and format input dirty perfetto quindi se io adesso scrivo poi cancello ma as error required e certo non funzionerà mai form control ovviamente devo andare a importare il reactive force module ok quindi form form control uguale come dice non lo trova uguale form input message ok a questo punto eccolo qua benissimo please insert message ok poi andiamo a sistemare anche l'input quindi disabled form input message invalid quindi è disabilitato disabled se è invalid dovrebbe essere invalido vediamo form input message invalid invalid è true quindi dovrebbe essere disabilitato ok però infatti non si clicca perché dovremmo metterci le classi però noi facciamo così andiamo a importarci mat button module e a questo punto qui smettiamo il mat let button ok quindi così ok non si vede il colore color primary vediamo ok ora andiamo a creare il servizio di gestione dei messaggi messages punto service punto ts a meno service message service ok qui su message service andiamo a gestire praticamente la gestione dei messaggi che andremo a far vedere qui ok quindi non ci serve questo ci serve questo andiamo a fare un po' di copia e incolla andiamo a importare tutto e andiamo a creare una nuova collection quindi prendiamo questo riferimento ovviamente non mi interessa lo user profile ma qui metteremo message collection andiamo a importare il tutto e dobbiamo dare definire un nuovo una nuova interfaccia ah vedete qui come al solito non è user profile click fix sarebbe questo no ora qui creiamo un altro models message model ts ok export interface message o che facciamo allora intanto mettiamo la data quindi possiamo tranquillamente coprire questo message sent on e date ok quindi quando il messaggio è stato inviato il messaggio string e per il momento lasciamo così ok a dir il vero no non possiamo lasciarlo così perché a noi ci interessa anche fare riferimento all'utente che l'ha inviato no o sono io o è qualcun altro quindi dobbiamo metterci praticamente user sent ok ok lo user sent per fare un riferimento a diciamo a un'altra giusto andiamo qui allora ritorniamo nel nostro file store se vi ricordate qui posso aggiungere dei campi tra le varie tipi qui che vedete abbiamo numero c'è reference e qui mi dice il riferimento della raccolta ok questo questo tipo di campo sarà quello che useremo per andare a riferirci praticamente sul sul nostro message quindi avremo un riferimento all'utente che l'ha inviato ok ci siete no fino a qui allora andiamo a vedere sulla documentazione di firebase how to reference reference a document perché stiamo facendo document reference eccolo qui allora questo però è il document reference collection reference document reference document reference ok user sent di che tipo è è un document reference lo andiamo a importare da firestore di che tipo di user profile questo ok mentre lo andiamo a importare eccolo qui e basta quindi quando andremo a inserire allora abbiamo il riferimento qui e quindi quando invieremo un messaggio quando l'utente invia un messaggio andiamo aggiungergli il riferimento ok quindi andiamo qui message collection message ovviamente non lo andiamo a trovare message message andiamo a importare il message questo mi servirà penso che mi servirà ok quindi send new message tanto facciamolo così e marchiamolo void allora per inviare il messaggio lo dobbiamo fare come facevamo quello il profilo che andavamo a creare e dov'è 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 eccolo andavamo è la user service eccolo che lo andavamo ad aggiungere niente qui nello user profile andiamo a crearci per avere riferimento ok quindi per avere riferimento get user ref che è un observable e di document reference ok di user profile user profile undefined rivediamo che ci possa essere anche un undefined ok allora qui possiamo fare cost dollaro uguale a user divis punto out quindi questo è il nostro observable facciamo un return del nostro profilo facciamo una bella pipe perché non vogliamo il document reference ok quindi possiamo filtrare questa pipe user user not equal null dopodiché facciamo un bel switch map quindi avremo lo user e qui ritorniamo l'off il doc andiamo a crearci il riferimento e dobbiamo dirgli di vis punto user profile collection virgola e il path quindi più punto id u id ora questo mi da facciamo quick fix questo siamo sicuri che c'è perché abbiamo messo il filtro e quindi qui abbiamo il get user ref a questo punto nel send new message abbiamo bisogno del messaggio mettiamo lo string e abbiamo bisogno anche di iniettarci user profile service uguale inject user profile service this user profile service ok qui abbiamo l'user ref che però è un observable quindi allora pipe punto subscribe intanto facciamo questo ci creiamo il messaggio quindi get user ref abbiamo l'observable quindi facciamo uno switch map uno switch map user doc ref ok ovviamente mi dice che devo cruzarlo ok const new message uguale il message è uguale è uguale e qui prepariamo il nostro oggetto quindi message e messaggio message senton new date e per finire user center che sarà questo ok quindi togliamo i miei due punti type undefined user center perché questo qui può essere undefined quindi if user center mi sa che però ok ok quindi qui abbiamo creato un nuovo messaggio e dobbiamo aggiungerlo dobbiamo aggiungerlo a nostra collezione ok quindi qui possiamo fare return from promise e la promise è latdoc this.message collection e il data e new message ok questa promise questa questo adddoc da una promise non mi ricordo più andiamo a vederla eccolo qua reference è una promise con il document reference che abbiamo appena aggiunto ok altrimenti facciamo return of undefined perché nel caso in cui l'utente non sia collegato non facciamo vedere niente ok ora qui nel next message message doc doc ref ok console log message inserted message doc ref ok adesso andiamo a vedere ah no beh bisogna ancora inserirlo andiamo nel nostro questo andiamo a salvare message model lo salviamo nel nostro componente eccolo qui andiamo ad aggiungere qui button ok un bel click qui un send message ovviamente non mi serve avere riferimento all'input che ce l'ho già come form input control quindi andiamo ad aggiungerlo ovviamente c'è il truc che non ci interessa ok il punto void che non ritornerà niente al momento dobbiamo aggiungere il message service inject message service this message service send new message for input message value mettiamoci l'if ovviamente perché questo qui accetta anche valori null e siccome ho detto che non voglio valori null scritto ovviamente si arrabbia ok quindi e per finire this.former reset ok ora andiamo a vedere facciamo un altro refresh log in ci loghiamo ok ora mi aspetto mettiamo questo di qua annulla andiamo a vedere test invia che cosa non è andato a buon fine non è andato a buon fine secondo me è perché abbiamo messo il user profile perché questo get user ref qui abbiamo lo dollaro che però invece di far così possiamo prenderlo user dollaro is punto ok non serve l'html messaggi inser inser ed è scritto andiamo a vedere qui però qua non l'ha inserito vediamo non l'ha inserito andiamo a eliminare la collection e dove l'ha inserito send new message prompromise message collection ah messages inserito negli utenti riproviamo invia andiamo a vedere se adesso ce l'abbiamo eccolo ce l'abbiamo fatta con il messaggio la data e il riferimento dell'utente che l'ha inviato ok quindi adesso che facciamo tanto questo lo rimettiamo qua andiamo a creare i messaggi quindi ritorniamo nel non compone ok andiamo a vedere il terminale eccolo qua no questo idori s giusto si ggc e message message e basta ok ah non gli ho detto di eliminare lo spec lo eliminiamo perfetto ora il messaggio che faremo e questo qui sarà un componente di view quindi qui nel nostro home component andiamo a prenderci i nostri messaggi private message service quale inject message service ora questo message service ci serve la get di messaggi get messages ok dobbiamo fare come avevamo fatto l'altra volta no dove era dove era eccolo qua l'avevamo fatto così no quindi lo facciamo qui e in realtà ok portiamolo fuori e facciamo così private collection data il message collection e l'idfield in questo momento non ce l'abbiamo quindi lo commentiamo importiamo observable e questo qui message che è il nostro modello questo è messages già che ci siamo lo facciamo diventare un elemento signal ok qui non ce l'avevo già no però ce l'ho dall'altra parte dovrei averlo tu signal non ce l'avevo tu signal eccolo qua mi serviva proprio questo lo importiamo qui siamo nel servizio di messaggi quindi questo facciamo to signal e lo mettiamo qui quindi messages è diventato una variabile signal quindi questo read only messages ok quindi ritorniamo nella nostra home e abbiamo il message service siamo qua e a questo punto usiamo la nostra solita tecnica message service punto message chiamato così messages l'ho chiamato messages pipe json ok perfetto come vedete c'è anche riferimento di chi l'ha inviato ma è un buono ok togliamo via questa cosa messages come l'ho marcato ok è un array di messages ok andiamo qua cancelliamo tutto questo e facciamo tanto un controllo messages ok facciamo un ciclo for search of messages track by loro index ok a questo punto qui ci mettiamo il mio message component ok ovviamente dobbiamo importarlo l'ha importato eccolo qui ma il message mettiamoci qualche cosa message work ok quindi se salvo message work adesso inserisco un altro message work metto un altro message work perfetto quindi la chat inizia a essere reattiva ok in input qui mettiamo il messaggio dei punti message esatto uguale input punto required message questo è il problema ok quindi adesso qui message message perfetto e quindi adesso dobbiamo andare a creare il nostro messaggio ok non ovviamente message work ma se già ad esempio qui mettiamo qui mettiamo message punto message perfetto però lo facciamo un po' più carino allora allora abbiamo il riferimento dell'utente dobbiamo andare a leggere qual è l'utente user sent uguale computed dobbiamo prendere il messaggio cost msg uguale miss punto message dopodichè msg qui abbiamo un doc ref però dobbiamo andarlo a leggere quindi io c'ho il doc ref com'è che si faceva documentation andiamo collection get andiamo a fare la get import import from punto angular fire fire para firestore e qui get doc quindi get doc qui il document reference ok punto ven però se qui c'ho il get doc prende il documento che bisogna riconvertirlo most doc user doc uguale allora facciamo una wait vediamo return user doc punto get data e qui abbiamo data ok da uno user profile non defined ok lo andiamo a mettere qui facciamo uno small send by user user sent questo mi dà una promise user doc è un doc snapshot e il data del documento e questo perché da una promise non gli piace tanto facciamo così vediamo che succede import json pipe andiamo a vedere no non è una promise infatti quindi qui punto display name visual studio code no pipe async link pink pipe e punto display name che dice ma aspetta l'identifier for property access attend ok ok allora qui at message punto message send on pipe firebase ovviamente bisogna che lo importiamo date pipe andiamo a importare ecco qua perfetto qui adesso mettiamo un altro type date t barra m barra xy hh del punto m e lo andiamo a importare qui dentro state pipe perfetto però non è ordinato in ordine cronologico quindi nei messaggi message service qui prendiamo message collection collection data la query non ce l'abbiamo ma la creiamo subito query messages andiamo a importare mi serve message collection la query la possiamo per il momento non eliminare ma la mettiamo così e i messaggi li ordiniamo per message send on in ordine decrescente da questo punto qui query message ok e quindi ce l'abbiamo in ordine cronologico ora altra cosa che dobbiamo fare è differenziare i messaggi nostri dai messaggi inviati da altri utenti quindi quindi dobbiamo metterlo a sinistra o a destra no? io ho il riferimento però mi sa che questo riferimento lo user profile eh no ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho dollaro che mi determina e chi sono ok peace out facciamo una prova andiamo qui e qui ci mettiamo l'out ok e ci importiamo questo message message sent from me uguale computed quindi se io faccio this punto out current user current user hello user punto però eh sì perché qui c'ho lo user lo user esatto quindi posso confrontarlo con il mio messaggio perché c'ho riferimento quindi se prendo questo qui posso fare un return usd uguale uguale msg user center punto id perché questo id lo inseriamo noi nel riferimento dell'uso profile ed è uguale al nostro usd quindi facendo questa comparazione so se è il mio o no ora facciamolo vedere intanto facciamo soltanto sent small ok mettiamoci tanto una property così sent by me e qui message sent from me ok true 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 proviamo a log abbiamo tolto via il log out abbiamo scassato tutto allora niente di preoccupante nel nostro app ci aggiungiamo un altro perché sto facendo questa cosa sign out e al click chiamare sign out ok adesso se io faccio sign out mi collego con l'altro utente anzi no sì mi collego con l'altro utente sent by me false se io qui scrivo nuovo messaggio faccio invio sent by me true andiamo a sistemare un pochino questo message allora intanto diamogli post chiocciola apply flex flex call item start justify center ok dopo dopo di che ci mettiamo anche facciamo appunto sent by me allora se io qui metto and le mette a destra perfetto quindi chiocciola apply items and e la grafia è la parte più usi allora allora bg facciamo un blu molto tenue ok a questo punto a questo punto mettiamo un bel div sistemiamo il nostro codice allora ci mettiamo class message e questo è un message a questo punto questo lo mettiamo qui and punto sent by me ok a questo punto è un g class ovviamente non c'è andiamo a importarlo quindi ng class ok quindi come l'abbiamo chiamato sent by me sent by me due punti message sent from e voilà eh andiamo a stilizzarlo un pochino mettiamoci un bel padding grounded forse il testo text text white black dark plate vediamo 800 700 ovviamente vediamo prima sistemiamo qua max flex call troppo cap 5 3 2 3 vediamo se c'è anche l'altro utente facciamo così quindi width eeeh no 80% ok solo che facendolo a lui detto 80% adesso devo trovare il modo per inviare cioè e spostarlo a destra a sinistra perché altro messaggio lo mette qua da notare che rifresca ogni volta dalla schermata andiamo qui allora questo qui è un flex call dobbiamo dirgli u meno full però il messaggio il messaggio qui deve dire item send item non mi ricordo se è self end self vediamo no allora il messaggio è questo il messaggio è questo qui ci abbiamo il ah perché il messaggio dobbiamo dirgli di fare un width 100% perché solo così avremo anche il pezzettino ok ora ora quindi dobbiamo dirgli punti host giocciola apply v meno full mettiamoci anche un bg red per capire se arriva alla fine ok ci arriva dopo di che dobbiamo dirgli mettiamo justify end non non gli piace non gli piace facciamo l'ispezione e andiamo a capire perché allora questo è il messaggio e questo è align self è align no non gli piace secondo me facciamo questa prova eh float se li dico così col float ho finito float end e a questo punto ecco fatto ora togliamo via questo rosso quindi ce l'abbiamo così però in effetti una cosa che non ho provato è il self end che qui dice così align self andiamo a cercare self align in realtà devo cercare item self item align item stretch self start ma è host che dovrebbe essere fle ma lo è ah dici che host vediamo se io metto che è flex aspetta no perché noi abbiamo il div e no c'hai ragione se io metto flex flex ro deve succedere invece devo mettere che è un call eccolo lì grande fedez ok ultima cosa io farei uno switch qui perché vedere il mio messaggio il mio nome non va bene farei una cosa così giocci la if message sent from me allora se from me giocci la s allora mettiamolo così sì 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 Grazie a tutti